San Drigo, aria di festa del Bacalà. Domani apre la 37esima edizione e le forze dell'ordine danno un giro di vite sulla sicurezza, intensificando i controlli con un'operazione straordinaria. Un piccolo esercito di 25 donne e uomini, delle volanti, della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione della questura di Vicenza, con il supporto del reparto prevenzione crimine di Padova, dei carabinieri e della polizia locale nord-est vicentino, hanno identificato 50 persone, di cui 12 stranieri e 12 con precedenti penali o di polizia, verifiche su tre locali, una sala giochi e 112 veicoli. Vicino a un bar è stato rintracciato un albanese di 45 anni particolarmente noto per i suoi atteggiamenti provocatori e fastidiosi, dedito allo spaccio di droga e con molti precedenti. A suo carico risulta pendente un provvedimento di espulsione dall'Italia, motivato dalla sua pericolosità sociale. Lo straniero è stato quindi accompagnato in questura e condotto coattivamente dai poliziotti all'aeroporto di Treviso, dove è stato imbarcato su un volo aereo diretto a Tirana e quindi rimpatriato. Nel caso rientrasse in Italia è previsto l'arresto.